Renzo Piano costruirà il nuovo ponte Morandi, questo l'esito della gara per la ricostruzione del viadotto dopo il crollo lo scorso 14 agosto in cui hanno perso la vita 43 persone. L'annuncio è stato fatto da Marco Bucci, sindaco e commissario per la ricostruzione, 202 milioni il costo totale. Piano, che ricoprirà anche il ruolo di supervisore tecnico, ha detto il sindaco, offrirà la sua prestazione alla città. Il momento di costruzione è previsto per 12 mesi, per cui noi siamo confidenti che per la fine dell'anno avremo il ponte costruito. Non accessibile ancora, ma certamente tutti lo potranno costruire. Oltre 10 proposte sono state sottoposte all'attenzione della commissione, tra i nomi noti che hanno partecipato oltre all'architetto genovese anche Santiago Calatrava. Una decisione fatta tenendo conto di diversi fattori, tra cui qualità, manutenzione estetica e costi. Alla domanda se abbia influito nella decisione il fatto che Piano è di Genova, il sindaco ha risposto che ai cittadini piace l'idea e sui dettagli del progetto Bucci ha detto il design richiama la forma di una nave e a tutti gli aspetti del modo di essere genovesi, tra cui la solidità.